Vincio il 7-20 agli oi giudio e maschile alla sesta finale, il vigile del fuoco Tomei! Vigile del fuoco Tomei! Medaglia d'oro a Nico Guidi! Tutto la corsa della canottiera di Tevere Romo continua senza sosta verso il traguardo, vediamo cosa succede in acqua! Una bella soddisfazione per il vigile del fuoco Tomei, una medaglia d'oro che fa gioire tutti i tifosi, ti aspettavi di vincere? Sì! Raccontaci un po' com'è stata, dai! E' stato impegnativo mantenere di stacco dal secondo e dal terzo... Però tu ce l'hai fatta alla grande, domani con cosa gareggerai? Quattro di coppe! E come va questo quattro di coppe del Tomei? Bene, bene! Dobbiamo preoccuparci? No! Va bene, vedremo cosa saprete fare domani, a chi vogliamo dedicare questa bella vittoria? A Antonio Baldacci, a Luca Caschetto e a Andrea Brilli! A tutti i coach del Tomei, un abbraccio veramente fortissimo, bravi ancora, complimenti e forza Tomei, bravo!